Cari amici, cari amici, ci vedete, ci vedete? Noi siamo le tre grazie, ma quelle di oggi, quelle di oggi, non quelle dell'antica Griscia. Noi siamo tre gemelle, tre gemelle, e al capannone della Fiat dove noi andiamo a lavorare tutte le mattine alla catena di montaggio, e i colleghi nostri operai a noi ci chiamano le tre grazie, perché lo sanno tutti, chiederemo le tre grazie una volta, una volta sì che stavano bene le grazie, stavano tanto bene, le chiamavano pure cariti, cariti, invece i romani le chiamavano grazie, e mica si sa se erano figli di Zeus e Hera, c'è un nome, o di Zeus e dell'oceanina Eurinome, Eurinome vuol dire colei che regna sugli spazi, invece noi regniamo sullo spazio ristretto del capannone nostro, dove andiamo a lavorare tutte le mattine, capito, e noi le grazie una volta nell'antica Griscia erano le idee della bellezza e della vita gioconda, anche serena, e secondo Esiodo le grazie nell'antica Griscia erano tre, Eufrosine, che vuol dire Letizia, Aglaia o Aglea, che vuol dire splendore, Talia, la prosperità, invece a Sparta se ne venebbero solo due, Cleto e Faenna, e ad Atene pure due, Auxo ed Egemone, Egemone, lo dice la parola che cosa vuol dire Egemone, l'Egemonia, l'Egemonia, nell'antica Griscia stavano tanto bene le grazie, capito, e noi invece oggi come oggi, oggi come oggi non ci sta più bene nessuno in Griscia, e penso che pure le grazie di una volta non ci starebbero tanto bene nella Griscia di oggi. Noi comunque che siamo nati, siamo nati noi tre, siamo tre gemelle, e siamo nati in pieno welfare, e noi ci tocca andare a lavorare in fabbrica, capito? Tutte le mattine ci alziamo presto presto, vedete, ci acconciamo così alla buona, ci acconciamo così alla buona, e andiamo a lavorare in fabbrica, alla catena di montaggio, perché a noi ci hanno assunto subito, perché essendo tre gemelli, il lavoro alla catena di montaggio lo potremo fare meglio, vedete? E i nostri datori di lavoro ci vogliono tanto bene, perché nessuna come noi è tanto attaccata così come noi al lavoro della catena di montaggio, capito? siamo sempre sereni come le tre grazie di una volta, sempre sereni, e sempre puntuali sul servizio, capito? Sempre puntuali, ci alziamo tanto presto al mattino, tanto presto, tanto presto, e ancora a buio, capito? ci vestiamo così alla buona, alla buona ci mettiamo quello che capita, anche perché non ne abbiamo tanti di soldi per comprare i vestiti nelle boutique, capito? non ce ne abbiamo tanti di soldi per comprarci i vestiti nelle boutique, e così poi, fatto il dovere nostro alla catena di montaggio, ci tocca tornare a casa, dove ci aspettano i mariti nostri, ci aspettano, ci avevamo pure il mutuo da pagare, capito? ci avevamo pure il mutuo da pagare, e ci mettiamo appresso ai fornelli per i mariti nostri e per i figli nostri, vedete com'è cambiato il mondo dalle grazie antiche, dalle grazie dell'antica Grecia, cari amici, che sarebbero queste, sarebbero, le vedete, le grazie dell'antica Grecia, vedete che belle che sono, cari, vedete quanto sono belle, e loro non avevano mica bisogno degli vestiti, vedete che belle che erano le grazie, come quant'erano felici, però noi siamo più ordinati, vedete quanto siamo ordinate, e noi andiamo così, tenendoci per mano, vedete che tra l'altro nelle mani abbiamo una borsetta piccola piccola, perché noi siamo senza pretese, capito? E così, cari, oggi il mondo è fatto così, è cambiato tutto, si è passati dalle grazie della Grecia antica e di Roma antica, si è passato a queste grazie che siamo noi, perché i nostri colleghi della catena di comando, della catena che c'è in fabbrica, la catena di montaggio, e ci chiamano così, noi siamo le tre grazie, vedete? Guardateci qua, cari amici, siamo tanti attaccati al lavoro nostro, anche perché tra l'altro fuori dalla fabbrica, tutti i giorni ci aspetta Nichi Vendola, Nichi Vendola che dice che farà in modo che la nostra paga venga aumentata, venga portata al livello della sua, perché lui prende circa 15 mila euro al mese, Nichi Vendola, e di come ci vuole tanto bene a noi operai, dice che anche noi abbiamo il diritto di guadagnare tutti i mesi 15 mila euro netti, come fa lui, va bene cari amici, eccoci qua, abbiamo detto la nostra, va bene? Siamo le tre grazie, a presto!